Salve a tutti e bentornati dopo un periodo di pausa alle Japan News, come promesso, episodio speciale tema Oscar. Non parleremo di altre news, parleremo soltanto e unicamente degli Oscar. Quindi, da settimana prossima ovviamente ritorneranno le news normali, quindi sulle novità nel mondo tech, mondo videoludico in generale. Ma intanto parliamo di Oscar, Oscar, svolti settimana fa, che devo dire mi hanno intrigato e anche un filino di luso, devo dire, almeno per alcune cose. Ma prima vi dico che venerdì, per chi non lo sapesse, è uscito un video sul canale per gli AirTag. Datelo a vedere potrebbe essere interessante, questa settimana poi usciranno i test veri e propri sugli AirTag. Detto questo, iniziamo, categoria miglior film, iniziamo subito col botto, facciamo il contrario degli Oscar. Miglior film, i candidati abbiamo The Father, Judas and the Black Messiah, Manc, Minari, Nomadland, Una Donna Promettente, Sound of Metal e Il Processo, i Chicago 7. Ok, alcuni di questi film li ho visti, alcuni no, devo ancora vedermi Nomadland, che tra l'altro è il vincitore come premio di miglior film, quindi sì. Devo dire che, per quelli che ho visto, quindi attualmente soltanto il processo di Chicago 7, almeno come miglior film, bello, non mi è dispiaciuto, anzi mi è piaciuto, boh, devo vedere gli altri. Magari ne parleremo se riuscirò a vedere tutto in tempo. Soprattutto perché alcune cose non sono neanche uscite in Italia, perché The Father non so dove trovarlo, Minari esce il 5 maggio, Una Donna Promettente non so dove trovarlo, Nomadland è uscito il 30, Judas and the Black Messiah c'è solo pagamento, quindi adesso vediamo. Miglior regia, candidati sono Thomas Winterberg per un altro giro, David Fincher, Mank, Lee Isaac Chang, Minari, Chloe Zhao per... che poi non è Zhao ma è Gao forse. Beh, l'avevano spiegato gli Oscar come si pronunciavano, non me lo ricordo più. Per Nomadland, Emerald Fenner, Una Donna Promettente. E il premio alla migliore regia va Chloe Zhao per Nomadland, tra l'altro Chloe Zhao ha fatto sceneggiatura, regia, ha fatto il montaggio da sola di Nomadland, quindi GG, GG. Cioè io faccio fatica a montare i miei video, questa qua ha montato un film da sola, dopo che ci ha fatto la regia, dopo che ci ha fatto la sceneggiatura. Quindi, GG. Miglior attrice protagonista. Viola Davis, Marenis Blackbottom. Andra Day, The United States vs. Billie Holiday. Vanessa Kirby, Pieces of a Woman. Frances McDormand, Nomadland. Carrie Mulligan, Una Donna Promettente. Il vincitore va a Francis McDormand per Nomadland, quindi un altro premio che va nel roster del nomination per Nomadland, GG. Che questo mi, pian piano che vedevo le varie cose, mi faceva sempre più venire voglia di vedermi in Nomadland, adesso devo aspettare di avere l'occasione giusta e guardarmelo da tranquillo. Perché mi incuriosisce, anche i trailer mi hanno fatto incuriosire per bene. Miglior attore protagonista. Abbiamo Rissa Hamed per Sound of Metal, Chadwick Boseman per Marenis Blackbottom, Anthony Hopkins per The Father, Gary Holman per Mank e Stephen Yen per Minari. Il vincitore è Anthony Hopkins per The Father, che non ho visto, quindi non so interpretazione. So soltanto che mi è piaciuta tantissimo l'interpretazione di Chadwick Boseman in Marenis Blackbottom. Lì mi è piaciuta talmente tanto perché ha tenuto da solo in piedi il film, veramente. Con tutte le espressioni, i cambi d'umore, ha tenuto un film perfettamente. Mi dispiace per Chadwick per non aver vinto e ovviamente per non essere più tra noi. Miglior attore non protagonista. Miglior attore protagonista abbiamo Cheryl Baron Cohen per Il processo Chicago 7. Abbiamo Daniel Kaluuya per Judas and the Black Messiah. Leslie Odom Jr. per Quella Notte a Miami. Paul Rassi per Sound of Metal. E Rakete Stanfield per Judas and the Black Messiah. Quindi addirittura Dono Minashino per due attori non protagonisti per lo stesso film. Il vincitore è stato uno dei due, ovvero Daniel Kaluuya. Beh, Judas and the Black Messiah. Anche lì un altro film che non ho visto ma mi ha intrigato. Un film basato comunque su una storia vera. Con quindi attori che devono interpretare persone realmente vissute, or realmente viventi. Che è sempre una cosa difficile per gli attori interpretare qualcuno di storicamente esistito. O comunque attualmente in vita. E quindi, ok. Ci sta, potrebbe starci. Le altre interpretazioni... Ho visto quella di Sasha Baron Cohen, però mi è piaciuta. Mi è piaciuta però comunque anche lì ha dovuto interpretare un personaggio vissuto. E gli altri non li ho visti come interpretazione. Miglior sceneggiatura originale. Miglior sceneggiatura originale abbiamo Judas and the Black Messiah. Minari, Una Donda Promettente, Sound of Metal, Age, Processo e Chicago 7. Il premio è andato a Una Donda Promettente. Tra l'altro la stessa che ha seguito la sceneggiatura di Una Donda Promettente è stata la regista di Una Donda Promettente. Che tra l'altro, mentre era sul set, ha fatto 23 giorni di set intensi. Comunque, come dicono tutti i registi, tutti gli attori, il set è comunque molto intenso come lavoro. Bisogna stare tante ore, anche magari scomodi, magari anche circostanze non molto comode. Lei era pure incinta al settimo mese, quindi c'è, GG. Perché comunque, già è difficile normalmente, non male. Infatti anche lì sul palco gli hanno fatto i complimenti per la stessa cosa. Lei gli ha parlato, ha raccontato un po' di cose, quindi GG. Miglior sceneggiatura non originale. Borat, seguito di film cinema. The Father, Nomadland, Quella Notta Miami e La Tigra Bianca. Il premio va a The Father, che continuo a non aver visto. Più che altro, quello che mi ha incuriosito, che voglio più vedere, è Un Notta Miami. Che, tra l'altro, se non sbaglio, è stato il primo film come Regina King regista. Cioè, è stato il primo film di Regina King da regista, quindi interessante, interessante. Miglior fotografia. Miglior fotografia è una cosa che a me, facendo il lavoro che faccio, è sempre una cosa che mi intriga sempre un po' a vedere la fotografia nei film e capire chi viene premiato. L'anno scorso ho vinto 1917, che secondo me è stato un premio azzecatissimo per la fotografia. Quest'anno ho vinto Mank, che tra l'altro i candidati erano Judas and the Black Messiah. Mank. Notizia nel mondo, Nomadland e Il processo di Chicago 7. Di quelli che ho visto, io ho visto soltanto Il processo di Chicago 7 e Il trailer di Mank. Ma già solo dal trailer Mank mi ha fatto capire che aveva un'ottima fotografia e quindi ci sta il premio che abbia vinto. Non che la fotografia del processo di Chicago 7 non fosse bella, ma secondo me forse Mank, anche se avessi... Già, vedendo il film sarei stato ancora più d'accordo con la mia decisione di fare il tifo per Mank, almeno tra quelli che sono riuscito a inquadrare. Miglior film internazionale. Miglior film internazionale, quindi un film non originale degli Stati Uniti d'America, che ovviamente è la patria degli Academy Award che consegnano gli Oscar. Abbiamo Better Days di Hong Kong, un altro giro, Danimarca, Collective, Romania, The Man Who Sold His King, Tunisia, Covadis Aida, Bosnia ed Erzegovia, Erzegovina, mamma mia, questi posti con i nomi strani. Il vincitore, un altro giro per la Danimarca. Miglior film di animazione, miglior film di animazione a parer mio, ormai si sa sempre già prima, perché quando vedi un film Disney nominato agli Oscar, sai già che vincerà, come è successo l'anno scorso per Toy Story 4 se non sbaglio. Qui abbiamo Onward, Over the Moon, Shaun Vita da Pecora, Farmageddon, Soul, Wolfwalkers. Wolfwalkers che è stato il primo prodotto Apple candidato agli Oscar, perché è un Apple original, con il lungometraggio di animazione, che non ho ancora visto, ho visto solo il trailer, sembrava figo. Ma il vincitore è Soul. Solo che è stato parlato, di cui ne hanno parlato benissimo ovunque, quindi GG, va bene. Miglior documentario abbiamo Collective, Creep Camp, The Mall Agent, Il mio amico in fondo al mare è Time. Alcuni di questi tra l'altro sono stati anche pubblicati su Netflix, o direttamente prodotti da Netflix con DGG, e il vincitore è Il mio amico in fondo al mare. Miglior trucco d'acconciatura abbiamo Emma, Elijah Americana, Marinis in Black Bottom, Mank e Pinocchio. Comunque, miglior trucco d'acconciatura, comunque parliamo anche di quando dobbiamo mettere, si perdono delle maschere o trucchi particolari addosso un attore. In Pinocchio c'era un bambino di legno, cioè più di così, e tra l'altro produzione italiana, quindi un pochettino sono di parte, quindi devo dire, sono un po' rimasto deluso che il mio amico è stato Marinis in Black Bottom, che l'ho visto bello, ma non è che avessero acconciature chissà che particolari o roba del genere, quindi secondo me trucco acconciature non andava proprio bene Marinis in Black Bottom, però boh. Miglior costume abbiamo Emma, Marinis in Black Bottom, Mank, Mulan e Pinocchio. Anche qua siamo sulla stessa cosa, Marinis in Black Bottom non aveva vestiti particolarissimi, ma ha vinto, quindi va bene, però forse Mulan o Pinocchio erano più indicati come miglior costumi, visto che sono comunque un po' particolari. Miglior sonoro, miglior sonoro abbiamo Greyhound, il nemico invisibile, Mank, notizie del mondo, Soul e Sound of Metal. E' evidente qua lo trovo azzeccato, perché per quello che comunque non abbia magari visto tutti questi film candidati nelle varie categorie, mi sono informato su di loro. Sound of Metal è comunque molto particolare come film, che parla comunque di un musicista che inizia a perdere l'udito, e quindi un montaggio in cui in certe occasioni si deve sentire come una persona che perde l'udito e non sente bene, è difficile da fare, soprattutto per uno che è ben udente. quindi devo dire che il dare il premio col minore montaggio sonoro a Sound of Metal secondo me era più che azzeccato, quindi GG. Miglior cortometraggio, qua non ne ho visto neanche uno, abbiamo Feeling Dope, The Letter Room, The Present, Due Stranei e White Hay. Due Stranei lo troviamo su Netflix, durano 34 minuti, non l'ho visto perché non l'hanno doppiatto in italiano, io ho un problema con le altre lingue perché non le capisco, e i sottotitoli non ci sto dietro, quindi devo guardare la mia roba in italiano. Però ne ho parlato bene anche chi l'ha visto, quindi devo dire va bene, GG. Miglior cortometraggio animato abbiamo, Hurro, Genius Lossi, se succede qualcosa vi voglio bene, Opera e Yes People, non ne ho visto neanche uno, però questi qua non ne ho sentito parlare di uno, non ne ho visto nessun trailer, non ne ho visto niente, quindi non mi posso esprimere proprio zero, ma neanche per sentire o dire. Comunque il vincitore, se succede qualcosa vi voglio bene. Miglior cortometraggio, tuo commentario. A concerto is a conversation, don't not split, Hunger Ward, a love song for Latasha, e Colette. Il vincitore è Colette. Colette che tra l'altro c'è dietro Electronic Arts, che è comunque vedere una ditta di videogiochi, cioè un'azienda, perché ditta mi sa un po' brutto, un'azienda, comunque un grande colosso videoludico, dietro queste cose qua, nominato gli Oscar, è interessante. Dovrebbe aver fatto parte di qualche progetto che è anche proprio incentrato EA in prima persona, però bisogna vedere anche dal lato videoludico a questo punto. Migliori effetti speciali. I migliori effetti speciali qua abbiamo Love and Monster, The Midnight Sky, Mulan, l'unico e insuperabile, Ivan e Tenet. Quando si parla di effetti speciali ci sono tanti film da nominare, però quando sai che un film c'è dietro Christopher Nolan, Christopherino Nolan, è ovvio che è possibile che vinca. Io ho solo visto Love and Monster, che mi è piaciuto molto come effetti speciali, più che come trama, che per quanto fosse carino, sì e no. Tenet però giustamente ha una marcia in più, perché Nolan comunque se ne è sempre, è sempre stato molto il suo campo, gli effetti speciali. Miglior scenografia, miglior scenografia abbiamo The Father, Marini's Black Bottom, Mank, Notizia del Mondo e Tenet. A quanto pare, l'ha detto di molti, Mank ha avuto un'ottima scenografia, comunque bisognava ricreare l'Hollywood degli anni 30, quindi sì, ha senso, infatti ha vinto Mank. Marini's Black Bottom effettivamente non aveva molto senso vincesse, perché è passato su un'unica stanza, neanche tanto curata, perché doveva essere nel 27, nello scantinato di un edificio, un po' trasandato, quindi non aveva senso premiare un, per quanto fosse fatto bene, desse l'idea del trasandato, non aveva senso farlo vincere. Miglior montaggio, miglior montaggio abbiamo The Father, Nomadland, Una Donna Promettente, Sound of Metal e Processo di Chicago 7, anche qui, tra quelli che sono stati nominati, io ho visto solo Processo di Chicago 7, che aveva un buon montaggio, ma non mi sembrava niente di eclatante. Il mio titolo è stato Sound of Metal, quindi Sound of Metal si è portato addirittura due premi, GG. Miglior colonna sonora abbiamo The Five Bloods, Mank, Minari, Notizia del Mondo e Soul. Soul comunque, essendo un film anche basato sulla musica, effettivamente aveva senso anche vincesse, come colonna sonora, rispetto ad altri film. Ci sta. E chiudiamo con la miglior canzone originale per un film. Abbiamo Hear My Voice, Processo di Chicago 7, Who's A Week, Eurovision Song Contest, Yo Si, La vita davanti a sé, Speak Now, quella nota maniera mia, Fight For You, Judas and the Black Messiah. Ho sentito tutte queste canzoni qua, mi sono piaciute tutte, tranne una, non me ne vogliate male, Yo Si, di Laura Pausini, per La vita davanti a sé, non mi è piaciuta, non dico che faccia schifo, perché non è una cosa soggettiva, quindi vi dico se mi sento che non mi è piaciuta, tra tutte quelle che ho sentito. Alla fine io, Usa Vic l'ho sentita bella, molto molto bella, ma ancora poco di impatto forse. Hear My Voice, Speak Now, Fight For You, sono quelle che mi sono piaciute di più. Se devo dire, Hear My Voice, con la voce di Celeste, era molto bella. Alla fine comunque ha vinto Fight For You, Judas and the Black Messiah, di Hear, se non si vuole si pronuncia così il nome della cantante. Comunque vedrete qualcosa a schermo, perché non sono proprio per niente in grado di darvi un nome preciso, una pronuncia precisa. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video. Fatemi sapere voi chi speravate vincesse, in che categoria. ditemi che film avete visto, quali avete intenzione di vedere. La canzone, che è una cosa che mi incuriosisce a sentire quale canzone voi preferivate, e se voi state preferite dal pubblico. Magari se mi ricordo vi lascio anche una scheda. Con la votazione, io vi ringrazio, da Geppe e tutto, ci vediamo in un prossimo video. Che magari sarà quello degli AirTag, se tutto va bene, si spera. Se non sarà un video zappabuchi, perché venerdì voglio far uscire assolutamente il video del PC. Salute.